Buongiorno raga, è lunedì, pesiamoci, ero 107 l'ultima volta, andiamo a vedere 105 e 9 raga, adesso devo cancellare due numeri, no il 100, andiamo insieme, andiamo insieme 105 e 9, andiamo, il 100 raga si avvicina, il 100 si avvicina, e a 100 mi ho pure provato i jeans Allora raga, qui è finito, meno male, questo è finito, basta, 106, ok ricominciamo, da qua Mancano 5 numeri e 100, manca veramente poco, da quanti anni è che non pesavo così? Quada quando ci siamo conosciuti? 6 anni? 7 anni, 7, cioè vabbè raga, adesso da facculazione e vai